... ... ... ... ... ... ... non è da casa, devi chiedere col marito no ma che marito? dai, fuori e fonte una luca dai cazzo, mi ricorda? no no, metto là 5 1 6 fu quest'altra volta un po' di il primo che mi organizzava 2 2 3 4 5 6 6 6 7 brava brava brava